Ancora una vittoria, con il massimo scarto, ancora tre punti, questa volta esaltanti, che dimostrano come l'Alba Verde non soffra di vertigini. Il risultato, altro 3-0 finale, è stato impietoso, anche se non testimonia fino in fondo la durezza della gara, ma la sostanza è quella di un'Alba Verde che esce vittoriosa con il massimo scarto dallo scontro contro la funivia Etna, dopo una battaglia senza esclusione di colpi, in una gara a tratti bella ma sempre vibrante. In una gara non perfetta l'Alba Verde ha conquistato il massimo risultato possibile grazie a una grande volontà e spirito di gruppo. Sabato 10 dicembre l'Alba Verde se la vedrà al Palacanizzaro contro la Saracena. I risultati della non aggiornata Serie B2 Girone M. Cuscatania gioiosa 3-1, Funivia Etna Alba Verde 0-3, Pallavolo Crotone Stefanese 3-0, Zafferana Fidelis Torretta 3-0, Saracena Brico City Volley 3-0, Procori Ericina Ardenz Comiso 3-2. La classifica. Alba Verde 25 punti, Zafferana 24, Pallavolo Crotone 23, Procori Ericina e Cuscatania 18, Gioiosa 17, Funivia Etna 16, Fidelis Torretta 14, Saracena 12, Volley Region 9, Ardenz Comiso 6, Brico City Volley Stefanese 3 punti chiude la Planet a un punto.